Gentili telespettatori, buona giornata. C'è la data per il cambio di orario dalle 22 alle 23. Vediamo quali sono le tappe. Il nuovo orario sarà possibile già dal giorno 17 di maggio. Insomma, secondo me è sempre troppo in là. Almeno due monitoraggi con la curva in discesa è il terzo che conferma l'abbassamento dell'indice e questa è la condizione per allungare almeno fino alle 23 l'orario delle chiusure notturne. Il compromesso raggiunto dalla maggioranza di governo per modificare il decreto entrato in vigore il 26 di aprile e che dovrebbe durare, anzi deve, dura fino al 31 di luglio. Intanto il 14 maggio dovranno riunirsi per chiarire le riaperture di bar, ristoranti all'aperto e dei luoghi dello spettacolo. Dice che devono influire l'andamento delle trasmissioni dei contagi, soprattutto sulla tenuta delle strutture sanitarie. Il dibattito è in corso sia all'interno del governo sia nei partiti. Le posizioni talvolta sono completamente distanti. Anche dentro la Lega di Salvini diciamo che le posizioni sono diverse. Matteo Salvini raccoglie le firme per abolire questa misura delle chiusure notturne. Giorgetti si dimentica, si fa per dire, di firmare la petizione. Nel provvedimento scade il 31 di luglio, ma le misure in vigore saranno rimodulate seguendo i dati che ogni settimana arrivano, ma anche il risultato della campagna vaccinale nelle diverse regioni. Perché la chiusura notturna dalle 22 alle 5 è una misura nazionale, non è suddivisa per colori. Quindi dovrà essere fissato in maniera che possa valere in tutta Italia. Dunque tenendo conto anche delle aree dove l'incidenza è ancora alta. Quindi, ad esempio, se in tutta Italia si può, perché i numeri sono positivi e una sola regione i numeri sono peggiorati, allora il coprifuoco nazionale non si può fare e questo orario non verrebbe spostato dalle 22 alle 3. Invece sarebbe più logico farlo diventare per colori. Nelle regioni gialle si può fino alle 23, nelle regioni bianche viene cancellato, nelle regioni arancioni fino alle 22, nelle regioni rosse un'altra misura. Almeno secondo me dovrebbe essere fatto così, però non è stato pensato così da Conte ed è rimasto tale e quale. Ma a questo qui bisognerà dovedere, tenendo conto delle aree dove l'incidenza è ancora alta, bisogna vedere il valore dell'RT, l'indice di contagiosità, incrociando con gli altri indicatori la permanenza nella fascia arancione o rossa. Ci vuole un doppio monitoraggio. Il primo per valutare la situazione è quello di domani, domani e venerdì, anche se si tratta di dati antecedenti all'entrata in vigore del nuovo decreto che non forniscono la fotografia istantanea perché si basano su rilevamenti della settimana precedente, ma consentono comunque all'Istituto Superiore di Sanità e al Ministero della Salute di individuare le aree di maggior rischio. Davvero indicativo sarà invece il bollettino del 7 di maggio, a 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto che ha riportato il 70% degli studenti in presenza, con un affollamento incredibile sui mezzi pubblici e soprattutto una circolazione dei cittadini nelle regioni gialle che dalle 5 alle 22 non prevede alcuna limitazione. e terrà conto del fine settimana del primo maggio durante il quale sarà inevitabile un affollamento nelle località di mare e di vacanza, come nei ristoranti e nei bar, sia pur esclusivamente all'aperto. Quindi i dubbi sono proprio quelli che con tutto questo chiamiamolo rilassamento, chissà se realmente i numeri saranno in miglioramento. Nella settimana successiva poi si riuniranno la cabina di regia delle forze delle maggioranze e si confronteranno sull'opportunità di spostare alle 23 o addirittura alle 24 l'orario per il divieto di circolazione. Il leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, Matteo Salvini della Lega e una parte di Forza Italia appoggiati dai governatori di centrodestra premono perché sia addirittura abolita questa misura. Ma non sembrerebbe possibile per il momento, si parla solo dei ritocchi, di modifiche. I dati sono quelli del 14 maggio e si tratterà veramente di dati positivi, già il 17 maggio sarà possibile rimanere più a lungo in giro al bar al ristorante o in girateria. Per adesso le regioni cominciano ad attrezzarsi in vista delle nuove scadenze e ieri hanno consegnato al governo i protocolli messi a punto per le attività che ripartono il 15 di maggio. Dal 15 di maggio in fascia gialla sarà possibile andare in piscina all'aperto e negli stabilimenti balneari. Le misure proposte dai governatori prevedono di assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni o altri sistemi di ombreggio in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati a postazione, tra lettini e sedie sdraio quando non posizionate nel posto ombrellone. Dovrà invece essere garantita una distanza di almeno un metro. Vietati i giochi di gruppo, mentre gli sport individuali, racchettoni o in acqua, nuoto, surf, windsurf e catsurf possono essere regolarmente praticati nel rispetto delle misure di distanziamento. Consentiti il beach volley, il beach soccer, ma seguendo le disposizioni delle istituzioni competenti. Mentre dal primo giugno poi via libera, sempre in zona gialla, dai ristoranti al chiuso, dalle 5 alle 18. Ultimo passaggio prima delle riaperture già previste a partire dal primo luglio di eventi, fiere e congressi, ma sempre tenendo sotto controllo la curva dei contagi per scongiurare rischi di dover tornare indietro nel pieno dell'estate. Vediamo, speriamo che si riesca realmente ad andare verso delle riaperture irreversibili. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, serve ad aiutare il canale ad essere più visibile. Siamo anche nella community dove ci sono tanti sondaggi a cui partecipare, ci sono anche in Facebook Tele Italia e nell'altro canale di YouTube Tele Italia Seconda Rete. Mentre ci sono anche gli abbonamenti al canale, con un euro al mese potete vedere i video in anteprima o reprima che vengano pubblicati e con invece l'abbonamento da 3 euro potete vedere oltre ai video in anteprima anche dei video dedicati solo a chi ha questo abbonamento. Grazie a tutti, se volete tra una ventina di minuti ci sarà un altro video su questo canale. Ci vediamo a presto, arrivederci a tutti.